Allora iniziamo, intanto porto i saluti del presidente Francesco Acquaroli che non sarà qua con noi perché ovviamente ha degli impegni importanti lì a Palazzo Raffaello, ma ci siamo ecco io e l'assessore Castelli insomma a rappresentare e a darvi un annuncio importante oggi. Intanto ringrazio i rettori delle università, delle Marche che sono presenti, ringrazio la presidente dell'ERDIS, tutti i rappresentati, le istituzioni AFAM con la presenza dei direttori che sono anche alcuni in collegamento via web che ringrazio appunto per la presenza perché questo è un risultato importante per tutto il mondo dell'istruzione terziaria nel senso è un risultato veramente importante per tutte le università, per gli AFAM, per gli studenti e per la regione Marche. Qua parliamo di un innalzamento della soia ISEE ed ISPE, tanto per dirvi che noi eravamo, le Marche erano l'ultima regione d'Italia con un ISEE di 21 mila euro. Noi lo innalziamo a 23 mila euro e l'ISPE a 50 mila, quindi direi che c'è stato un balzo in avanti notevole che ci mette, che ci affianca alle regioni più virtuose in merito alle borse di studio perché dobbiamo guardare al merito, parliamo sempre tanto di giovani, parliamo sempre dell'importanza della formazione, dell'istruzione, però poi dopo servono fatti. E qua mi sembra che abbiamo fatto dopo vari incontri con i rettori, con l'ERDIS, con i rappresentanti anche del mondo studentesco che saluto, che avevano manifestato, ecco infatti li saluto e li ringrazio perché loro stessi avevano manifestato questa esigenza di innalzare l'ISEE per ampliare l'accesso agli studenti, alle borse di studio, ecco ci siamo riusciti. Per questo voglio ringraziare personalmente l'assessore Castelli perché ovviamente non si tratta di una somma così irrisoria, così minima e quindi ha fatto veramente uno sforzo per individuare delle risorse importanti perché si tratta di un incremento di 2 milioni e 200 mila euro circa, perché noi ad oggi abbiamo già 3 milioni dedicati alle borse di studio, quindi per un totale di 5 milioni e 2, che è una cifra considerevole, importante e una cifra che comunque simboleggia veramente il fatto che la regione crede proprio nell'investire sul merito, perché sappiamo intanto che bisogna lavorare collegialmente per alzare il numero dei laureati, dai dati che abbiamo anche a livello nazionale sono circa il 19,6% coloro che raggiungono titoli di formazione superiore e quindi dobbiamente ecco darci da fare per colmare questo gap e per far sì che persone, che ragazzi che hanno delle capacità e che quindi meritano di fare questo percorso possano avervi accesso, soprattutto in questo periodo che è difficile, che comunque abbiamo vissuto, ecco secondo me era un segnale necessario, lo abbiamo pensato tutti quanti collegialmente dal presidente all'assessore Castelli e finalmente insomma siamo riusciti a fare questo passo importante, anche perché sappiamo anche che non si parla solamente di merito, ma c'è poi tutto un discorso ovviamente che coinvolge le università che comunque sono anche un motore economico del nostro territorio, gli enti di formazione, perché? Perché poi è ovvio che si crea tutto un indotto virtuoso perché più studenti ci sono, più studenti noi riusciamo ad attrarre sul nostro territorio anche da fuori e più si crea insomma questo circuito virtuoso anche a livello economico, ci crediamo molto, quindi secondo me è un investimento molto importante sia per quanto riguarda la avere sempre attenzione al merito e non creare discriminazioni da un punto di vista economico, ma anche ecco come investimento futuro che sicuramente avrà, farà da moltiplicatore per questo territorio e sicuramente potenzierà le nostre università e gli AFAM del nostro territorio. Quindi ecco sono veramente contenta che siamo riusciti in questo intento, ringrazio ancora tutti quanti i rettori, la presidente dell'ERDIS, IAFAM, perché è stata quando dopo si crea questa intenzione, insomma questa volontà così collegiale e alla fine insomma si raggiungono dei risultati positivi per tutti quanti noi. Quindi grazie e lascio la parola all'assessore Castelli. Grazie collega, io devo dire che c'è stata come sempre una bella collaborazione con la collega Latina con i servizi e abbiamo fatto questa scelta perché meditavamo su quali azioni concentrare l'attenzione per la ripresa. Abbiamo ritenuto che oltre a quello che faremo per artigianato, commercio e economia fosse decisivo investire anche su quello che ha detto la collega Latina, ovvero l'apprendimento, lo studio, l'alta formazione universitaria. Quindi è una scelta culturale e politica perché riteniamo che la ripresa passi da questo, da un numero ancora più ponderoso e qualificato di ragazzi che possono frequentare le nostre università. Secondo tema, c'è caro anche per ragioni culturali e su questo ci siamo visti e trovati subitissimo con la collega Latina, che devo dire con tutti gli assessori e con il presidente in particolare, che è determinante in un momento di ripartenza lubrificare gli ingranaggi dell'ascensore sociale perché una società è giusta ed efficace se il povero può pensare a diventare ricco, se lo verita e potrebbe anche capitare che il ricco diventa ancora più ricco perché ciò accada è necessario che gli strumenti formativi siano appunto messi in condizione di favorire che tutti i nastri di partenza della vita possano partire possibilmente senza handicap o col numero minore di handicap. Per questo abbiamo ritenuto particolarmente attuale questo tipo di proposte e ringrazio l'assessore Latina di avermi una fatta perché mi sembra qualificante, oltre perché le cose che ha detto, per l'impostazione culturale che è sottesa a questa scelta. Bene, io passerei anche la parola a coloro con cui io collegialmente abbiamo preso questa direzione, partendo dalla presidente dell'ERDIS e poi ai rettori. Io però devo fare... Per un saluto veloce. Io capisco il coordinamento del SIRBA, fra cui c'è anche l'approvazione dell'ordinanza macerata per quanto riguarda la ricostruzione. Io chiedo... Intanto una foto ce l'avete fatta che c'era anche l'assessore Castelli. Scusate ma alle 11 e mezzo so che c'è chi è direttamente... Sì, poi dobbiamo subito allora la parola dopo al rettore adornato e... Io mi scuso presidente, mi autorizzo... Ci mancherebbe... C'è tutti i presidenti... No, 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 scusate... Saluto. Io sarò breve perché, diciamo, gli assessori hanno già riassunto quello che era l'obiettivo, penso, di tutti, non solo dal punto di vista politico, ma anche poi dal punto di vista operativo e per ripartire. La considero una scelta lungimirante, non solo dal punto di vista economico, quindi di innalzamento economico patrimoniale finisee e ispe, ma al fine per l'allargamento, diciamo, della platea degli idonei, ma rendere appetibile la nostra regione non vuol dire solo attirare gli studenti e giustamente speriamo che... Non solo un'offerta didattica e formativa che abbiamo, eccellente, attrae gli studenti, ma speriamo anche in questo miglioramento dell'innalzamento economico patrimoniale che rende le famiglie, diciamo, che aiuta le famiglie nella loro scelta. Tuttavia, ecco, in questa scelta ci beneficia sia il tessuto economico e sociale di tutto il territorio. Bene, grazie. Allora, Rettore Adornato, così... È una scelta assolutamente da condividere. Le università, specialmente nei nostri territori, sono un volano sicuramente economico perché innescano processi indotti economici, ma sono anche volano culturale, volano civile, volano legato alle relazioni sociali e alla rivitalizzazione delle città, della realtà in cui insistono e del sistema territoriale regionale. Ecco per cui, anche per questo, c'è da condividere. Grazie. Benissimo. Passo la parola al Rettore di Urbino. No, ho fatto prima le università. Grazie, professore. Anche io condivido questa scelta fatta di alzare il limite dell'Isee. L'Università di Urbino, già dall'anno scorso, aveva portato questo limite dai 20.000 ai 25.000, proprio con l'idea, appunto, di sostenere gli studenti e le rispettive famiglie più in difficoltà. Perché, appunto, crediamo nella formazione, ovviamente non possiamo far diversamente. Vediamo che la formazione sia veramente lo strumento per favorire la mobilità sociale e dare delle prospettive ai nostri giovani per il futuro in un mondo economico, sociale, che cambia continuamente. Quindi avere gli strumenti per essere in grado di interpretare questi cambiamenti e anche capire quale tipo di risposta dare a questi cambiamenti possa avvenire solo tramite la formazione. Quindi grazie di avere anche la regione favorito l'arrivo di studenti. E soprattutto, non scordiamoci una cosa che mi piace sottolineare con forza, è che molti dei territori dove gravitano le università, Urbino, Macerata, Camerino, sono zone interne che vedono anche una forte riduzione della popolazione. Quindi il fatto di attrarre studenti in qualche modo è una compensazione ad una perdita di residenti invece di lungo termine. Grazie. Allora, il rettore della Politecnica di Ancona, Gregori. Sì, buongiorno a tutti. Tre concetti. Il primo evidenziando il valore pubblico delle università e in questa prospettiva una decisione del genere va nella corretta direzione. Il secondo, che la pandemia ha incrementato le disuguaglianze e quindi di nuovo una scelta di questo tipo risponde a delle esigenze reali del territorio e quindi va, a mio avviso, nella giusta direzione. La terza considerazione riguarda quello che stiamo facendo anche noi, cioè come diceva il rettore Calcagnini, noi abbiamo creato un fondo che si chiama Fondo Carlo Urbani che consente al di là degli aspetti normativi di finanziare situazioni specifiche perché non sempre la normativa consente di riconoscere situazioni particolari. Penso al calcolo di sé che molto spesso viene fatto dopo e quindi gli effetti economici ce l'hai successivamente. Quindi in questo senso credo che è un'ottima integrazione tra istituzioni diverse nella stessa direzione. Grazie. Al prorettore di Camerino. Buongiorno a tutti. Io ringrazio la Giunta per questo atto. un importante passo avanti che è stato concordato con il CRUM e che quindi va incontro a tutte le università marchigiane. Chiaramente gli obiettivi della ripresa e anche dell'ascensore sociale, cioè riattivare questo ascensore sociale, sono fondamentali. Ecco, è chiaro che questa misura favorirà non solo l'attrazione ma anche trattenere i nostri studenti che molto spesso vanno a studiare in altre regioni pur avendo delle eccellenze in casa. In questa ottica è una misura che tenderà anche a ridurre la tendenza allo spopolamento di alcune aree interne, ad esempio quella in cui insiste l'Università di Camerino. Le università in qualche maniera però partecipano anche a questa misura perché abbinata alla borsa ci sono chiaramente c'è la detassazione. Quindi all'università questa misura porterà meno introiti se rimanesse inalterato il numero degli iscritti. Quello che è la scommessa, quello che avverrà penso senz'altro sarà l'aumento degli iscritti presso le nostre sedi e questo non ci può che fare un enorme piacere. Bene, grazie. Questo infatti è l'obiettivo. Allora passo la parola a Salvatore Giordano, Presidente del Conservatorio. Allora io come Presidente del Conservatorio qui vorrei dare due informazioni. La prima, il raggruppamento AFAM, all'interno del quale ci sono conservatori, accademie e ISIA, nelle Marche hanno una specificità unica. Solo due città in Italia hanno la concentrazione che ha la regione Marche, Roma e Firenze. In termini dimensionali di abitanti, noi siamo una piccola cosa perché siamo 1.350.000 abitanti. Ecco, la diffusione quindi della possibilità di erogare cultura a tutto tondo, dalla musica all'arte in generale, integrata dalla presenza anche straordinaria di quattratenei che abbiamo nella regione, ci rende particolarmente attraibili. Tutto quello che quindi va a concorrere, a fare in modo che questo beneficio, questa possibilità, queste risorse che abbiamo, riusciamo a rendere ancora più attrattive, io credo che sia meritorio. E quindi io ringrazio l'assessore, la giunta, tutti quelli che hanno contribuito a rendere possibile questo tipo di intervento e confido che noi andiamo a migliorare la nostra attività. Sul fronte AFAM, l'informazione importante che voglio restituire è che le AFAM del conservatorio, io posso dare i dati tra virgolette numerici precisi, noi abbiamo il 10% di lavoratori, pardon, di studenti che vengono dall'estero a fronte di una media del 5% delle università e in generale come media. Ovviamente nelle medie ci sono quelli che hanno di più e di meno. E la particolarità che posso citare del conservatorio Rossini di Pesaro è che l'attrattività è verso la parte dell'est del mondo in particolare. Quindi significa che noi ad esempio in Cina abbiamo una quantità di studenti importanti, nessuno lo sa, ma questi vengono a studiare in una cittadina come Pesaro. È un punto di forza e un'eccellenza del territorio che se ed in quanto riusciamo a rafforzare facciamo il bene della nostra comunità. Bene, grazie. Allora, intanto saluto il direttore dell'ERDIS che è presente anche lui, Angelo Brincivalli, e do la parola invece al Luca Cesari, direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Urbino, che è in collegamento con noi. Buongiorno e mi spiace non essere presente in persona, ma la circostanza è importante e quindi è opportuno assolutamente seguirla anche da remoto. Concordo assolutamente con quanto hanno osservato i magnifici lettori e il Presidente del Conservatorio di Pesaro, sottolineando il ruolo effettivamente attrattivo che le AFAM rappresentano, Accademie di Belle Arti e altri conservatori e altre istituzioni e anche l'impegno personale e individuale di queste istituzioni nel perseguire la strada che ora la Regione indica con riferimento alla facilitazione degli studi e all'ampliamento della possibilità di studio degli studenti che desiderano frequentare appunto le nostre istituzioni. Anche noi singolarmente a Urbino, Accademia, registriamo sul piano del rapporto dell'internazionalizzazione dei rapporti un contingente molto importante e significativo di allievi provenienti dall'estero, dai paesi asiatici che sono attratti dalla magistrale scuola per tradizione urbinate della grafica e non solo e sul piano dell'innalzamento appunto della soglia dell'ERBIS, della soglia economica anche noi individualmente quest'anno abbiamo praticato proprio questa strada con riferimento a quello che è lo scopo fondamentale della nostra formazione e direi alla missione complessiva di tutto l'insegnamento, la formazione terziaria che oggi per merito anche della Regione Marche e dell'assessorato rappresentato dalla dottoressa Latini si trova concorde riunita ad un medesimo tavolo. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie direttore, allora io vi ringrazio tutti quanti e poi io penso che questo è un primo passo collegiale, sinergico che ovviamente ecco è nato proprio da un confronto che è iniziato da subito quando mi sono insediata e voglio che proseguo in avanti, quindi già sapete insomma avevo mandato anche sulla proposta che comunque era stata fatta per sottoscrivere insieme tutti quanti un protocollo insieme anche alla Camera di Commercio per poi dopo poter intraprendere una strada comune e diciamo un percorso virtuoso per progettare insieme le sinergie e le progettualità che possono ecco portare a un miglioramento come in questo caso di prospettiva che riguardano l'istruzione terziaria. Quindi sicuramente ci rincontriamo a settembre per questa sottoscrizione, adesso ci facciamo una pausa estiva per ricaricare un po' le energie, anche se qui il lavoro comunque non si ferma mai, io so che siete sempre super operativi, super impegnati, quindi per qualsiasi cosa ci aggiorniamo comunque come sempre. Grazie della presenza, grazie.